Il numero dei morti cresce rispetto anche a prima del covid, questo è un dato drammatico. Un dato leggermente diverso è quello dei feriti che invece rispetto al periodo pre-pandemico sono calati. È comunque un elemento che va considerato, cioè necessita veramente di mettere una forte attenzione. Sono state 30 le vittime della strada in provincia di Arezzo nel solo 2022, quasi il doppio rispetto all'anno precedente quando erano state 20 a fronte di un numero totale di incidenti quasi stabile. 963 nel 2022, 946 nell'anno precedente, dati allarmanti presentati da Aciarezzo. Questo rapporto focalizza quali sono i fattori primari, parto principalmente dalle cause, che poi sono un po' quelle note purtroppo, sono la velocità e sono la distrazione alla guida. In questo io ci metto il cellulare perché ho sempre parlato della pericolosità dell'arma che rappresenta il cellulare alla guida. Ci sono poi le strade, le strade sono confermate alla pericolosità della strada 71, la 69 ed altre comunque nell'itinere di tutta la provincia. I veicoli principalmente sono le autovetture e un focus importante sta sulle moto perché anche il rapporto tra incidenti e mortalità è molto elevato ed è un elemento sul quale davvero deve essere posta una grande attenzione. Tutto questo rapporto serve principalmente a sensibilizzare, questo non è un freddo elenco di numeri, è l'ottica di dire che dobbiamo lavorare soprattutto su un punto. La gran parte di questi incidenti viene perché c'è errore umano, perché se tu non controlli bene il mezzo, ti distrai, è chiaro che l'incidente poi arriva. Fondamentale dunque la prevenzione e la sensibilizzazione. Ad Arezzo torna così il progetto Guida che ti guido. Illustra all'interno delle scuole quelle che sono le norme base di sicurezza stradale. Noi vogliamo far crescere in ognuno dei bambini e dei ragazzi e degli automobilisti di domani la sensibilità sul fatto che far comportarsi bene alla guida conviene soprattutto a noi.